Il Ministero dell'Interno annuncia nuove regole per gli sgomberi degli stabili occupati, ma la decisione del Viminale non placa lo scontro politico per quanto è accaduto a Roma. Intanto prosegue la polemica sul ruolo del Campidoglio. Sonia Dottavio. Prima di nuovi sgomberi si devono trovare soluzioni abitative e alternative per ricollocare gli sfollati. Lo prevede una direttiva del Viminale diretta ai prefetti, che verrà diramata la prossima settimana. Dopo l'intervento della polizia nel palazzo al centro di Roma, con la procura che indaga su un possibile racket delle occupazioni, non si placano le polemiche. Sotto accusa la gestione delle politiche abitative della giunta capitolina. Il Movimento 5 Stelle interviene a sostegno della sindaca di Roma con qualche distingo sull'operato delle forze dell'ordine. Di Maio le difende, Fico puntualizza. La legalità va sempre perseguita, ma ci sono dei modi giusti e dei modi sbagliati per raggiungerla. Il Virginia Raggi, via tweet, dichiara Noi abbiamo fatto il nostro dovere, al contrario di governo in Regione. Il Comune di Roma invece ha garantito a 50 migranti a 20 diritto gli alloggi e 50 invece hanno rifiutato. Così facendo si ripristina la legalità, togliendo il business dei migranti dalle mani della criminalità organizzata. Ma il PD in sì.